è stato uno strano anno per noi abbiamo dovuto imparare a vivere chiusi rinchiusi nascosti come i desideri più profondi poi però c'è l'arte a cui la libertà non può essere tolta che ha continuato a plasmare il mondo dal basso come una rivolta siamo stati fermi così tanto ora è tempo di muoverci veloci e nel nostro passato d'incanto smettere di cullarci felici e per l'arte italiana come per i nostri amori non è più tempo di avere pudori perché a volte serve un palazzo in cui entrare per poter finalmente uscire fuori quadriennale d'arte 2020 fuori dal 30 ottobre a palazzo delle esposizioni a roma grazie a tutti grazie a tutti